Dottore, quanto durerà la mia terapia? Domanda importantissima, domanda legittima da parte del paziente che solitamente viene fatta nei primissimi momenti, nei primissimi incontri della terapia. C'è chi la fa già al telefono, quindi durante la prima telefonata di conoscenza per fissare l'appuntamento, c'è chi la fa durante il primo appuntamento. Domanda da un milione di dollari, però complicata, domanda che per ottenere una risposta necessita una certa indagine da parte dello psicologo e anche una certa comprensione del caso. Infatti quando mi viene chiesta suona più o meno così. Allora dottore, ora che si è fatto un'idea, mi faccia sapere quanto potrebbe durare il lavoro, mi faccia sapere in termini temporali quanto potremmo metterci a svolgere questa psicoterapia. E la mia risposta è non lo so, o meglio non lo so ancora. Nel senso che per dare una risposta ad una domanda di questo tipo occorrono appunto tutta una serie di informazioni. Quindi il non lo so è un te lo dirò, te lo dirò a fine della consultazione, o meglio te lo dirò una volta che dopo i 3-4 incontri che appunto costituiscono nella fase di consultazione avrò le idee sufficientemente chiare da dare una previsione relativamente precisa di quanto ci potrebbe volere sia in termini di colloqui, quindi di numero di colloqui, sia in termini di tempo. Nel senso che non è detto che i colloqui abbiano sempre la stessa cadenza temporale, magari all'inizio ci si vede con una frequenza di una volta alla settimana, dopo ogni due, una volta al mese, dipende. Quindi si riesce a dare un'informazione di questo tipo, quindi una previsione di questo tipo è assolutamente importante e fondamentale, anzi anche per l'alleanza terapeutica come ho detto prima, però deve essere data una risposta precisa. Per poterlo fare servono appunto delle informazioni. Queste informazioni quali sono? Sono sostanzialmente suddivisibili in due grandi categorie. Da un lato c'è il sintomo, o meglio il problema per cui la persona arriva, dall'altro c'è la persona, appunto il paziente che porta con sé il sintomo e che chiede aiuto. Quali sono le caratteristiche che devono essere considerate del sintomo o del problema per riuscire a rispondere appunto a quanto potrebbe durare il percorso terapeutico? Sicuramente la tipologia di sintomo, ma ad esempio in chiave puramente teorica, poi non vale per tutti, poiché ovviamente ci sono anche altre variabili, ad esempio sintomatologie ansiose, sono trattabili in tempi relativamente più brevi rispetto ad esempio sintomatologie depressive. Però poi c'è da considerare l'intensità del sintomo, c'è da considerare la durata del sintomo, c'è da considerare da quanto la persona lo vive, l'eventuale cronicizzazione del sintomo, c'è da considerare la sua mobilità, cioè se ha delle oscillazioni o se permane costante. E poi c'è tutto il lato invece della persona, per la quale quindi si deve riuscire a comprendere quali sono i suoi valori, le sue modalità di ragionamento, la sua personalità, il suo modo di approcciare il problema, il significato che assume il problema per lei, quali sono le risorse, quali sono le leve quindi che possono essere agite per stimolare il cambiamento desiderato, e suscitare quindi poi un vantaggio nell'intraprendere anche un percorso di tipo psicoterapeutico. Sono quindi molte le variabili che devono essere considerate per riuscire a fornire una risposta congrua, una risposta che va data, quindi l'atto paziente c'è sicuramente da chiedere quanto potrebbe durare il percorso, cosa che io a mia volta nel momento in cui sono paziente di altri dottori faccio, che sia questo un ortopedico o chi per esso, insomma. L'atto terapeuta c'è da dare un'informazione chiara, un'informazione chiara una volta che sono state ben ponderate e analizzate le informazioni raccolte, poiché è una componente, come dicevo, fondamentale dell'alleanza terapeutica e quindi poi anche del successo del percorso di terapia. Però queste sono le due variabili da considerare, le due macro variabili. Il sintomo, quindi il problema per cui la persona arriva, può essere anche un problema esistenziale, e appunto chi è la persona abortatrice del sintomo, quindi le sue caratteristiche, le sue modalità di funzionamento e soprattutto le sue risorse.